La vittoria della determinazione, del coraggio e soprattutto dell'aggressività, quella del Gualdo Casacastalda contro la capolista Jolly Montemurro. Il neotecnico bagna nel migliore di modi il suo esordio con il Gualdo Casacastalda, che parte subito forte al primo minuto da angolo di Spinosa. Menchinelli in anticipo colpisce la traversa e la difesa poi libera. E' ancora pericoloso il Gualdo Casacastalda al minuto 12 con una punizione magistrale di Villanova. Grande parata del portiere Biagini, il migliore sicuramente del Gualdo Montemurro. Risponde la fondazione di Sette Soldi al quattordicesimo con Borgharello che mette in mezzo per Molinari che spara alto. Al quindicesimo c'è il gol di Villanova che scatta in posizione regolare in mezzo a due avversari e da terra cadendo riesce a fulminare il più bravo Biagini che intercetta ma non può far nulla contro l'abordata del giocatore del Gualdo Casacastalda. Grande esultanza da parte dello stesso. Ci sono proteste al minuto 24 per un atterramento in aria su Battistelli che era anche lui scattato in posizione regolare. Un episodio dubbio che fa molto discutere. Il primo tempo si chiude con una bella parata di Biagini l'ennesima su tiro di Spinosa. Nel secondo tempo sono gli stessi del primo. Parte forte la formazione del Giorli Montemurlo. Angolo di Pupeschi al terzo con la pelata di Improta che anticipa tutti però mette sul fondo. Al quarto minuto Villanova sfrutta un liscio di Carlesi. Si trova tu per tu con il portiere Biagini che in due tempi è bravo nel fermare l'attaccante. che andava verso la rete. Al sesto minuto c'è la risposta del Giorli Montemurlo con Molinari ma Fiorucci non si fa sorprendere. Azione personale al ventunesimo di Battistelli che si allarga in aria. Lascia partire il tiro che finisce alto. Al mezz'ora tiro di Borgherello sulla traiettoria. Si trova Pratali che fa il difensore e mette sul fondo la più ghiotta occasione in pratica per il Giorli Montemurlo. Appena entrato si mette in evidenza il giovane gualdese Dragoni che ha sui piedi la possibilità di chiudere la gara ma ancora una volta Biagini prima e la difesa poi a dir di no. Sul finale di gara al 42esimo Biagini in anticipo su Dragoni lanciato in porta e poi si chiude la gara con un tiro di improta alto. Una vittoria come si diceva della determinazione del coraggio. Forse la migliore medicina non poteva trovare il tecnico. Perfetto. Perfetto. Grazie a tutti